Attenti alla neve, a Vicenza è già tutto pronto. L'azienda municipalizzata si è attivata per entrare in azione con i mezzi spargi sale. Secondo le previsioni, da stasera fino a giovedì mattina, sono attese precipitazioni nevose anche nella pianura vicentina, in particolare in campagna. Molto più probabili, leggere piogge mischiate a nevischio. Per questo, IEM, AM e CPS hanno già predisposto otto mezzi spargi sale, più altri due di aziende terziste. Il personale è preallertato per questa sera e per la prossima notte, mentre alle 11 di questa sera si procede a una salatura preventiva dei ponti, dei sottopassi e della salita di Monte Berico.